Dopo gli anni della pandemia siamo finalmente tornati a vivere e a condividere insieme i riti del Natale, così al nostro telegiornale l'arciprete di Sciacca Don Giuseppe Marciante che augura alla comunità una festa di pace ed armonia. Gli auguri di Natale del Presidente della Regione Schifani, rivolti soprattutto ai siciliani in situazioni di disagio e con un pensiero al popolo ucraino e Fabio Termine dice che dopo gli anni bui del Covid la comunità può puntare su una fase nuova. Il prossimo carnevale va fatto in primavera perché è questa la possibilità per la migliore ripartenza dopo la sospensione, lo dice al nostro Tg, il sindaco Termine, che è precisa. Festa in centro storico, al momento non ci sono altre ipotesi. Sanità nel giorno dell'inaugurazione all'ospedale di Agrigento del nuovo complesso operatorio Mario Zappia invita la popolazione a continuare ad osservare le precauzioni, anche se adesso l'emergenza è data dall'influenza. Tutto pronto per la ventisettesima edizione di Caltabellotta, città presepe, che si svolge tra le vie del Borgo Montano. In quest'anno la regia della manifestazione è affidata a Marco Savatteri con l'ausilio di una sessantina di figuranti. Cultura siculiana, le opere del maestro Rosario Bruno, nell'ambito della mostra dal titolo racconto di un artista. Parleremo anche di editoria con la pubblicazione della Guida di Repubblica dedicata ai comuni siciliani con cultura albanese. Bentornati alle notizie di Telemonte Cronio. Siamo alla vigilia di Natale e arriva dall'arciprete della città di Sciacca, Don Giuseppe Marciante, l'augurio di una festività all'insegna della pace e dell'armonia. Dopo gli anni del Covid, dice padre Marciante, stiamo finalmente tornando a vivere e a condividere tutti insieme i riti del Natale. Ascoltiamo il suo messaggio. Concerti nelle chiese, la novena e gli altri riti del Natale finalmente vissuti con grande partecipazione dopo gli anni del Covid. Lo evidenzia il nostro telegiornale e l'arciprete di Sciacca, Don Giuseppe Marciante. Dopo due anni effettivamente di distrizione, di difficoltà a fare anche le celebrazioni natalizie, di fare i presepi, di celebrare tutti gli eventi del tempo del Natale con la novena, con le celebrazioni varie. Finalmente, iniziando la novena di Natale quest'anno, abbiamo avuto la grande gioia di vedere le nostre chiese piene di ragazzi, grazie alla scuola, perché credo che quest'anno dobbiamo dire grazie a tutti i dirigenti scolastici che hanno impegnato le loro scuole per coinvolgere i ragazzi nel ripristinare tutte quelle tradizioni meravigliose che è la nostra terra Sicilia, ma anche a Sciacca, che sono i vari concerti natalizi, i vari momenti di festa nelle scuole e anche nelle parrocchie. Anche a livello parrocchiale, per dire che credo che in tutte le parrocchie di Sciacca i ragazzi hanno avuto un momento di incontro, di incontrasse per celebrare la novena insieme con i vari cori parrocchiali e anche attraverso, in maniera particolare, incontri dei vari gruppi di catechesi, con le proprie catechiste. Ecco, siamo ritornati quasi alla vita normale e mi pare che questo sia un segno molto importante di fiducia che dobbiamo avere di ripresa della storia della chiesa, della storia delle nostre famiglie, a celebrare gli eventi più importanti che sono il Natale e la Pasqua. Questo è l'augurio formulato dall'arcipreta. Questa vigilia di Natale dobbiamo vivere nel segno della speranza, di riappropriarci di quella vigilia, di quella festa che accoglie il più grande dono di Dio. Sì è vero, in questi giorni qualcuno sta facendo un dono, ma non dobbiamo perdere di vista che questo dono che ci facciamo l'uno con l'altro parte alla sua origine dalla considerazione che dobbiamo fare. Dio ci ha fatto un grande dono. Dice l'Evangelista Giovanni nel capitolo terzo, Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo figlio Nicenet. Ecco, da lì parte, dalla riscoperta del dono, dell'amore di Dio e del dono che io posso fare a te. Partire proprio da questa coscienza, Dio mi ama, cammina con me, non mi ha mai abbandonato, mi ha fatto dono del suo figlio e io, come dire, ricordandomi di questo dono di Dio anche io mi voglio fare dono a te. Voglio darti qualcosa di mio, il mio regalo per te, per l'amicizia che abbiamo, per la conoscenza che abbiamo, deve essere anche un segno di quel dono grande che Dio ha fatto all'umanità. Facciamoci dono gli uni agli altri, perché vivere il Natale non è solo stare insieme in famiglia con un pranzo, con una cena, ma riscoprirci l'uno accanto all'altro. Riscoprire quindi la fraternità, ma principalmente in questo tempo di guerra, permettimi di dire, cercando di trasmettere la pace, cercando di donare la pace. San Francesco diceva, signore, fai di me uno strumento della tua pace, che asciacca nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie. Possiamo farci costruttori di pace, portatori di pace. E quando stasera, domani, io dirò a te e ci diremo l'uno con l'altro buon Natale, sia veramente un impegno a farci portatori della pace, costruttori della pace, strumenti della pace, perché senza la pace, carissime, non andiamo da nessuna parte. L'intervista integrale all'arciprete di Sciacca, Don Giuseppe Marcianti, andrà in onda nello speciale RMK Notizie in coda ai notiziari. Un pensiero al popolo ucraino e ai siciliani che stanno vivendo situazioni di disagio nel messaggio di auguri del Presidente della Regione, Renato Schifani, in occasione del Natale. Ascoltiamolo. Cari siciliane, cari siciliani, consentitemi innanzitutto di rivolgere un pensiero di forte vicinanza al popolo ucraino, un popolo che sta soffrendo i grandi dolori di una grave aggressione. Buon Natale a chi soffre, buon Natale a chi vive in disagio sociale. Il mio massimo impegno in questi anni di governo sarà rivolto a loro. Lavorerò senza sosta per far crescere la nostra Regione attraverso l'occupazione, una sanità più efficiente e dotarla di migliori trasporti. E lo farò in silenzio, con il doveroso carbo istituzionale che è necessario in un momento di politica troppo urlata. Ma lo farò con la forte determinazione di chi ama la propria terra. Cambiamo argomento. Il Carnevale 2023 va fatto in primavera perché gli stessi carristi hanno chiesto un po' più di tempo per una ripartenza dopo tre anni di sospensione che sia la migliore possibile. Lo ha detto al nostro telegiornale il sindaco Fabio Termi, nel quale sottolinea anche che al momento la pubblica sicurezza non ha opposto alcuna resistenza in merito alla possibilità che la festa si svolga, come sempre, in centro storico. Vediamo il servizio. Il Carnevale del 2023 si farà in primavera perché abbiamo bisogno del tempo necessario a farlo ripartire dopo gli anni di sospensione. Così è il nostro telegiornale Fabio Termine. Sì, stiamo interloquendo su vari livelli. In primis con chi la festa la deve fare, che sono i carristi, che mi hanno chiaramente stimolato anche a programmare un'edizione non da calendario, anche perché ci sono tutta una serie di discussioni da affrontare. Poi ci sono due anni di fermo che chiaramente vedono i carristi essere chiaramente molto più riflessivi sulle cose da fare. Quindi si sta programmando un'edizione primaverile e lo stiamo facendo chiaramente insieme alla categoria. Quindi in primis i carristi e poi con gli uffici del comune e con chi dovrà garantire la sicurezza. Però stiamo programmando un'edizione che deve essere l'edizione della ripartenza, anche in questo caso, per poi dare una progettualità a questa festa che a mio avviso è molto importante dal punto di vista turistico. Il sindaco di Sciacca conferma dunque che la manifestazione nel 2023 si farà e che al momento sono anche in corso interlocuzioni sulle questioni della pubblica sicurezza. La tragedia del 2020 e della morte del piccolo Salvatore ovviamente rappresentano spartiacque nella storia, ma al momento non ci sono notizie diverse dalla obbligazione tradizionale della manifestazione in centro storico. Siamo certi che rimarrà il centro storico oppure no? Ma ad oggi non vedo motivi per poterla collocare in un altro posto, però è chiaro che siamo... Siamo però che dopo il caso del 2020 la pubblica sicurezza è un po' più perplessa, questo è vero, questo ce lo può confermare? Ma ad oggi no, nel senso che sicuramente c'è un'attenzione da parte di tutti, devo dire, per fare una festa che ci faccia divertire in primis e che porti sviluppo, però non si è arrivati a queste determinazioni anche perché in questa fase non si è riscontrata una manchevolezza nel centro dal punto di vista della gestione della festa. È chiaro che però sono valutazioni che sono in itinere e che devono essere affrontate singolarmente caso per caso, però posso già dire che nell'anno nuovo, inizio l'anno nuovo, già partirà la macchina, quindi si pubblicheranno i bandi di affidamento della festa, di realizzazione dei carri allegorici e poi si andranno a sostanziare tutti gli atti amministrativi. Bandi entro gennaio, possiamo immaginarlo? Sì, verosimilmente entro gennaio si potranno sviluppare i bandi. Il Carnevale di Sciacca è un fatto che riguarda la storia, la tradizione, la società, ma che muove anche l'economia cittadina. Nessun dogma può dunque impedire di parlarne, perfino alla vigilia di Natale a proposito della quale il primo cittadino formula i suoi auguri alla popolazione. Sicuramente con tanta gioia faccio i migliori auguri a tutti i cittadini di Sciacca e credo che questo veramente sia il Natale della ripartenza dal punto di vista soprattutto dell'umore della gente, perché sono stati Natali bui, sappiamo di tutti i motivi, adesso si sta ripartendo. Sono convinto che la città di Sciacca ha tante carte da giocarsi e la comunità di Sciacca saprà rispondere bene per gli anni a venire, quindi io faccio veramente i migliori auguri a tutti i cittadini e ci sarà un modo chiaramente con chi ne avrà la possibilità di scambiarceli anche di presenza perché saremo chiaramente in giro per le strade. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Sciacca senza sostanziali modifiche per le festività natalizie. Solo domani 25 dicembre e giorno 1 gennaio non verrà garantito il porta a porta. Lunedì 26 dicembre quindi verrà effettuato il ritiro della frazione umida dei rifiuti. E scattano i primi sequestri di materiale pirotecnico in provincia di Grigento in vista del capodanno. Nel corso di un'operazione congiunta di carabinieri e polizia sono stati sequestrati 18 chili di esplosivo dall'elevato potenziale detonante, tanto da indicare la distanza minima di sicurezza in ben 60 metri. Due persone sono state arrestate con l'accusa di detenere illegalmente l'esplosivo. All'interno dell'abitazione di un empedoclino di 58 anni sono stati rinvenuti 160 candelotti di fattura artigianale privi di classificazione, etichetta e tipologia. Altri 93 candelotti sono stati rinvenuti all'interno di una rivendita di piante. Il GUP del Tribunale Penale di Sciacca ha tenuto l'ultima udienza del rito abbreviato riguardante l'omicidio stradale avvenuto a Menfi il 16 agosto del 2018, nel quale ha perso la vita il piccolo Marco Castelli. In seguito alla discussione, accogliendo le richieste dell'avvocato Giovanni Vaccaro, il GUP ha assolto l'ingegner Pierluigi Badano dall'accusa di non aver regolato la velocità e di non aver rispettato la precedenza, non essendo stata raggiunta la prova della responsabilità. Il pubblico ministero Michele Marrone aveva chiesto la condanna del Badano alla pena di un anno di reclusione, previa concessione delle generiche e della diminuzione per la scelta del rito. I familiari del minore, difesi dagli avvocati Caracci e Piatti, non hanno concluso ma hanno depositato una memoria, ritenendo responsabile l'imputato. La difesa aveva già depositato una memoria difensiva e una consulenza di parte dell'ingegner Nicolò Vassallo. L'avvocato Vaccaro, coadiuvato dall'avvocato Daniele Cattano, ha sostenuto che il conducente della Mondeo procedeva ad andatura moderata, ha rispettato il segnale di stop, ma il segnalato verticalmente e non segnalato precedentemente ed orizzontalmente non avrebbe potuto concedere la precedenza a destra, non essendo visibile la strada provinciale della strada comunale sulla linea dello stop e mancando anche uno specchietto parabolico. Altri procedimenti sono in corso davanti al Tribunale di Sciacca in seguito alle richieste della Procura, degli indagati e degli imputati in ordine allo stesso sinistro stradale. Parliamo di sanità. Inaugurato ieri all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, il nuovo e più moderno complesso operatorio. Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, i numeri dicono che la provincia di Agrigento è quella in cui il Covid si è diffuso di più, ma il commissario dell'ASP Zappia lancia un allarme diverso, cioè quello che riguarda la diffusione dell'influenza e il servizio. Il consueto punto settimanale sulla situazione epidemiologica del Covid e del commissario dell'ASP Mario Zappia stavolta è coinciso con l'inaugurazione del nuovo complesso operatorio dell'ospedale di Agrigento. Inaugurazione avvenuta ieri mattina al termine di un intervento di adeguamento strutturale e tecnologico. Oggi ci prendiamo la soddisfazione assieme ai direttori che lavorano qui di vedere la possibilità di poter lavorare in un ambiente così bello e così funzionale dal punto di vista tecnologico avanzato e quindi siamo ben felici di poter oggi inaugurare questa sala. Sappiamo anche che a partire dal mese prossimo dovremmo darci da fare per continuare nelle altre sale e nell'immediato di poter adeguare dal punto di vista tecnologico quelle altre sale, visto che se non riusciamo a farlo dal punto di vista strutturale, significa mura e altre divisioni, almeno puntare subito su quella che è la tecnologia. Per quanto riguarda la situazione epidemiologica del Covid e Zappia ha confermato che quella di Agrigento è purtroppo la provincia siciliana dove più alto è stato il numero dei casi. Numeri risibili per i vaccini, poco di più di 600 in una settimana, mentre per quanto riguarda i tamponi vedete la percentuale è il 25% di positivi sul totale, poco più di 1000 su 4000 e quindi ci dicono sempre che il virus cammina in mezzo a noi, ma la cosa che ce lo fa dire di più è il numero di positivi totali giornalieri che noi abbiamo, che ha visto la provincia del Agrigento essere al primo posto in Sicilia per incremento di casi nella settimana scorsa. Quindi perché vi diciamo queste cose? Oramai lo sapete perché vorremmo passare delle feste natalizie in tranquillità. Quindi vi esorto per quanto possibile ad areare, vi dico sempre le stesse cose, ma so bene che vanno ripetute per essere più convinti di quello che facciamo, areiamo, mettiamo la mascherina, disinfettiamo le mani e manteniamo per quanto possibile le distanze, ma è importante l'aerazione perché ci consente di non fare accumulare il virus all'interno di ambienti chiusi. L'ultimo bollettino riferisce di 870 positivi un decesso che ha interessato in particolare la comunità di Canicattì. Significativo è il numero di ricoveri in degenza ordinaria, segnatamente 10 a Ribera, 7 ad Agrigento e 6 a Sciacca. Uno solo per fortuna è il posto letto occupato in terapia intensiva, al fratelli Parlapiano. A Sciacca il numero più alto di positivi, 133. Zappi ha però lanciato un allarme diverso, quello dell'influenza che rischia di creare, ha detto, danni importanti a bambini e agli over 60. La settimana scorsa avevamo iniziato l'Influ Day. Mi permetto di sottolineare l'importanza del vaccino anti-influenzale, soprattutto per i bambini e per gli anziani, perché in tutta Italia abbiamo un picco di nuova incidenza, quindi nuovi casi di malattia per i bambini, che ha portato a un sovraccarico dei pronto soccorsi. E c'è anche un interessamento importante, non come quello dei bambini, ma altrettanto importante per gli over 60. Siccome sappiamo che gli over 60, andando oltre 70, 65, 70 e altro, sono le persone che hanno tante altre patologie, l'influenza di quest'anno è pesante, perché si hanno un paio di giorni di febbre alta e ovviamente un episodio di iperpiresia di febbre in una persona che sta bene si conclude in quei due giorni. Un episodio di febbre elevata in pazienti che hanno altre patologie ovviamente può innescare meccanismi che non sono né prevedibili e spesso non controllabili. Quindi siccome non costa nulla, approfittiamo del fatto che la nostra ASPA ha messo a disposizione dei punti, contattate i vostri medici di famiglia e i vostri pediati per sapere come fare a vaccinare i bambini e gli anziani, poi anche quelli delle fasce di mezzo, però i due estremi sono quelli più raccomandati. Aspettativa retribuita per il personale medico impegnato in attività umanitarie. È stato presentato dal capogruppo dell'ADC Carmelo Pace e dal parlamentare Ignazio Abate, un disegno di legge che prevede per i sanitari siciliani la possibilità di richiedere l'aspettativa retribuita in occasione dello svolgimento di attività umanitarie nei paesi in via di sviluppo, con un limite massimo di 60 giorni l'anno. Occupiamoci adesso della vicenda caro voli e apertura di una istruttoria da parte dell'Antitrust. L'assessore regionale ai trasporti Alessandro Arricò evidenzia come il governo regionale sia stato tra i primi a denunciare il problema e su iniziativa del presidente Renato Schifani abbia presentato un esposto all'Antitrust che ora ha aperto un'istruttoria. È la conferma, sottolinea l'assessore, che la tesi sostenuta dal presidente della regione ha un suo fondamento. Siamo fiduciosi quindi che finalmente siano riconosciute le ragioni dei siciliani che non possono più continuare a pagare un prezzo altissimo per la propria insularità. Sono 102 gli ordini degli architetti italiani che hanno sottoscritto ed inviato una lettera aperta al presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, per chiedere una profonda revisione del nuovo codice dei contratti. L'ordine agrigentino, che è tra i sottoscrittori del documento, nei giorni scorsi aveva anticipato il malessere degli architetti nei confronti di una riforma che segna un netto passo indietro rispetto alle politiche innovative degli ultimi anni, votate a rilanciare la centralità del progetto e ad aprire il mercato dei lavori pubblici ai cervelli. Il Consiglio Nazionale degli Architetti, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, ha presentato al Governo un documento con un pacchetto di emendamenti necessari a superare le criticità rilevate nel testo varato dal Consiglio dei Ministri, che sarà presto sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia. Confidiamo in una presa di coscienza del Governo, dichiara il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamedola, sull'opportunità di valutare positivamente i suggerimenti degli addetti ai lavori. Nel caso contrario, siamo pronti a condividere con gli altri componenti della filiera delle costruzioni altre forme di protesta. Consegnato ieri pomeriggio il Teatro Costa Bianca di Real Monte alla ditta giudicataria che eseguirà importanti lavori di ristrutturazione, restauro ed adeguamento funzionale dell'area esterna ed interna della struttura. L'importo totale del progetto finanziato dall'assessorato regionale beni culturali ed identità siciliana ammonta a 230 mila euro. Ed è tutto pronto a Calta Bellotta per la ventisettesima edizione di Calta Bellotta Città Presepe, il presepe vivente che si svolge tra le viuzze del piccolo borgo montano. Quest'anno la regia della manifestazione è stata affidata a Marco Savatteri con l'ausilio di oltre 60 figuranti. Ne abbiamo parlato con Viaggio Marciante, vice sindaco del comune di Calta Bellotta. 26 e 27 dicembre e poi 5 e 6 gennaio, questi i quattro appuntamenti in programma con Calta Bellotta Città Presepe, il presepe vivente di Calta Bellotta. 60 attori tra professionisti e abitanti del luogo per la regia di Marco Savatteri metteranno in scena il miracolo della natività tra le viuzze millenarie del borgo. Un progetto di teatro diffuso con spettacolo, musica, luci ma anche degustazioni, macco di fave, salsiccia, vino, pane, olio, ricotta, formaggio e tanto altro ancora. Ne abbiamo parlato con il vice sindaco del piccolo comune montano, Viaggio Marciante. Sono delle bellissime emozioni perché tutto il paese è in fermento per questa nuova edizione di Calta Bellotta Città Presepe, un'edizione tra l'altro innovativa, abbiamo provato a coinvolgere tutte le associazioni del territorio, molti cittadini, tra le caratteristiche di Calta Bellotta Città Presepe c'è sempre stata la collaborazione e quindi il coinvolgimento pieno della comunità. Tra le novità abbiamo la partecipazione, quindi la regia di Marco Savatteri che gestirà appunto tutto l'aspetto artistico e culturale di questa edizione, il partenariato delle vie dei tesori che con grande gioia siamo riusciti a portare avanti una collaborazione con questa magnifica realtà, quindi la fondazione delle vie dei tesori di Palermo. Tra le novità ci saranno dei percorsi teatralizzati con attori anche professionisti che in collaborazione con anche personaggi del luogo cercheranno di rendere l'edizione di quest'anno un'edizione magica, un'edizione che lascia qualcosa al visitatore che verrà a trovarci. Diamo qualche notizia tecnica per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti e anche per quanto riguarda l'utilizzo dei bus di navette che come comune avete messo a disposizione? Certo, allora intanto saranno previste due navette, una dal lato est e una dal lato ovest del paese. I biglietti sono reperibili online sul sito delle vie dei tesori ma è possibile acquistarli anche sul posto, quindi è predisposta una biglietteria per la vendita diretta sul posto. Inoltre le giornate, ricordo che sono il 26 e il 27 dalle 17 alle 22 e il 5 e il 6 gennaio 2023 sempre con lo stesso orario, quindi 17 e 22. Sono previste anche delle visite la mattina tramite una collaborazione con l'associazione Peregrinos e viste anche le numerose richieste che arrivano. Siamo riusciti a mettere a regime anche un percorso turistico da fare per i visitatori che verranno a trovarci la mattina, quindi visitando le chiese, monumenti, il museo e non per ultimo anche il museo archeologico che è stato inaugurato nel settembre di quest'anno. Per quanto riguarda questa bellissima iniziativa, voi avete cercato un po' di tornare allo spirito originale, quello del 94 e delle prime edizioni? Sì, questa è un'iniziativa che si ispira all'idea originaria di Caltabellotto e Città Presepe, ricordo nata nel 94, quindi siamo quasi ormai vicini al trentesimo anniversario, è nata durante l'amministrazione Aqueno con l'ideatore Ezionoto che ha per la prima volta portato a Caltabellotto un evento di questa portata. Il fatto che siamo arrivati a festeggiare quasi il trentennale vuol dire che è stato accolto dalla comunità, è stato portato avanti, è stato tramandato da chi si è susseguito come un progetto di spicco, di grosso ricamo turistico e culturale. Il percorso delle presepe dove è allocata la manifestazione? Il percorso è sempre il classico, nel senso il centro storico, le viuzze della pietà e quest'anno abbiamo cercato di inserire all'interno del percorso anche il passaggio presso il museo civico di Caltabellotta. Un'ultima considerazione, vi aspettate un grosso riscontro di pubblico? Sì, dalle prevendite, dalle numerosissime chiamate che arrivano, è previsto un grosso flusso di persone che verranno a farci visita a Caltabellotta. Caltabellotta quindi che si sta rilanciando dal punto di vista turistico? Sì, si è rilanciato, è stato un anno magnifico per Caltabellotta, Caltabellotta e Città Presepe è l'evento di fine anno, ma voglio ricordare come tantissime altre iniziative quest'anno hanno dato un respiro, hanno fatto sì che la ripartenza fosse reale dal punto di vista turistico e la cosa importante è che siamo riusciti a farlo attraverso la cultura, sono le iniziative culturali quelle che hanno fatto registrare il maggior numero di visitatori, l'edizione dei borghi dei tesori che tra l'altro Caltabellotta è stato il secondo borgo più visitato in tutta la Sicilia, di questo voglio anche ringraziare il coordinatore locale Michele Ruvolo che comunque continua a darci anche nell'edizione dei Caltabellotta e Città Presepe un grosso contributo, tutta l'amministrazione, il sindaco che hanno dato fiducia a queste iniziative perché puntare sui eventi culturali non è sempre così scontato, quindi poi c'è stato il Pacefest, il Detalo Festival, iniziative, piccole iniziative collaterali come anche una collaborazione col Teatro Biondo di Palermo, diciamo che è stato un anno molto ricco Caltabellotta e che ci fa benesperare anche per il futuro. Manifestazioni natalizie a Sciacca, niente ZTL oggi in centro storico così come lunedì 26 dicembre, la zona traffico limitato ci sarà invece domani giorno di Natale ma con orari diversi, cioè dalle 21 all'una di notte. Domani saranno attivi i servizi di collegamento con i bus navetta da Gaia di Garaffe e il trennino elettrico della Eternal all'interno dell'area del centro storico. Il programma delle manifestazioni prevede dalle 18 alle 20 animazione per bambini e famiglia in Piazza Angelo Scandaliato sotto l'albero di Natale. Lunedì 26 dicembre, dalle 17 alle 20 e 30 è possibile visitare i presepi artistici presso la Torre Campanaria di San Michele, Casa Meli, Chiesa di San Nicolò la Latina, Palazzo Borsellino di Via Licata, Cortile Conti in Piazza Matteotti e Chiesa Sant'Antonio Abate in Piazza Campidoglio. Un nuovo appuntamento con la commovente natività ambientata tra le colonne del Tempio di Segesta. Lunedì 26 dicembre, dalle 17 e 30 alle 22, il parco archeologico aprirà straordinariamente in notturna. Si potrà visitare la zona del Tempio e arrivare fin sotto le colonne dove apparirà la natività. Gli interpreti arrivano dal famoso presepe vivente di Custonaci che quest'anno ha dovuto rinunciare alla grotta di Scurati perché inagibile. Dopo lunedì sera le uniche altre due possibilità di assistere alla rappresentazione della natività al Parco archeologico di Segesta saranno il 5 e 6 gennaio quando arriveranno i Re Maggi. Occupiamoci di cultura. Le opere del maestro Rosario Bruno sono in mostra siculiana nell'ambito di un percorso artistico denominato Racconto di un artista. L'iniziativa voluta dal Comune e dalla Proloco propone 30 pezzi unici dell'artista, un vero e proprio viaggio nel suo percorso creativo dagli inizi fino ai giorni nostri. Vediamo il servizio. Racconto di un artista. Questo è il titolo della mostra di Rosario Bruno attualmente in corsa siculiana presso la torre dell'orologio. Una mostra che ha sondato l'intimo del percorso creativo di Bruno, scoprendo e facendo scoprire come sia arrivato a concepire e ad esternare il suo linguaggio artistico. L'iniziativa, patrocinata dal Comune e dalla Proloco di Siculiana, sarà visitabile fino al prossimo 31 gennaio 2023, tutti i fine settimana dalle ore 18 alle 22, mentre per il periodo natalizio sarà aperto dalle ore 16 alle 20. L'ingresso è gratuito e ha registrato tra gli altri anche gli interventi teatrali di Patrizia Fazzi. Rosario Bruno, molto conosciuto ed apprezzato anche a Sciacca, è ritenuto un innovatore ed è stato protagonista della stagione artistica rivoluzionaria degli anni 70 e 80. Ha partecipato ad innumerevoli mostre in Italia e all'estero, ottenendo svariate recensioni dai più grandi critici d'arte. L'arte di Bruno riesce a raccontare contemporaneamente epoche trascorse e presenti, attraverso le opere della sua ampia collezione, l'artista interpreta le carte da gioco, ritratti di iconografie e scene che si ispirano all'arte rinascimentale, al novecento artistico fino al post contemporaneo. Racconto di un artista espone una trentina di opere tra basso rilievi, alto rilievi e tutto tondi, con l'intento di esplorare 50 anni della sua attività artistica. Il suo lavoro è stato svolto in intimità nel suo laboratorio. Un'attività lenta e minuziosa, una ricerca meditativa che lo ha portato ad estranearsi dalla realtà per portarlo in un non tempo. I suoi risultati creativi sono carichi di una leggerezza ideologica, ci portano a staccarci dall'impegnativa realtà contemporanea e ci fanno vagare con la fantasia riconducendoci all'armonica bellezza che, come la storia dell'arte ci insegna, alla fine trionfa sempre. Per Rosario Bruno, nativo proprio di Siculiana, l'occasione di omaggiare il suo paese nativo con una mostra eccezionale che merita una visita di tutti gli appassionati di cultura e di arte. È uscita da poco ed è in edicola ma anche in libreria la guida ai sapori e ai piaceri di Repubblica, la collana di volumi diretti da Giuseppe Cerasa dedicata alla cultura arberesce, quella espressa in Sicilia da cinque comuni tra i quali Piana degli Albanesi, Contessa Entellina e Palazzo Adriano. Il servizio di Massimo D'Antoni. È in edicola libreria la guida di Repubblica ai sapori e ai piaceri dedicata alla cultura arberesce, la minoranza etno-linguistica albanese nata dalla fuga del popolo dall'oppressione ottomana avvenuta tra il XV e XVIII secolo, stanziandosi in villaggi e paesi nell'Italia meridionale. Cinque di questi paesi dove si conservano ancora lingue e costumi si trovano in Sicilia, tra di loro Piana degli Albanesi, la vicina Contessa Entellina, una cultura che Pierpaolo Pasolini definì un miracolo antropologico. Il commento al nostro telegiornale di Giuseppe Cerasa, direttore delle guide di Repubblica. Come nasce l'idea di dedicare una guida alla cultura arberesce? Peraltro noi qui in Sicilia abbiamo diverse comunità. Proprio perché è una piccola entità etnica e culturale, molto forte, e molto radicata. In tutta Italia e nell'Italia meridionale sono circa 100.000 abitanti che vivono in questi 58 comuni di origine albaesce, quindi albanese del 1400. Tutti sapranno che ci fu una forte migrazione dall'Albania, guidata da Skandenberg, che appunto si insediò nelle regioni meridionali, quindi Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. In Sicilia c'è Piana degli Albanesi, Mezzo Iuso, Contessa Entellina, Palazzo Adriano e Santa Cristina Gela. Sono delle entità fortemente presenti ancora con la memoria, non hanno mai deciso i legami che li collegavano al loro passato, con forti tradizioni, ma anche con una lingua che viene mantenuta, anche se ovviamente non ha nulla a che fare con l'albanese originale. Allora noi abbiamo pensato di dare evidenza a questa forte comunità, a questo gruppo insediato appunto tanti secoli fa in Italia meridionale e abbiamo scoperto che è tutto un mondo da raccontare, pieno di storie, di personaggi, di attività economiche, di particolari attrazioni anche turistiche e da qui è nata con l'idea di fare questo volume. Le guide di Repubblica permettono di scoprire o riscoprire luoghi italiani, regioni o città valorizzandone origini storiche, aspetti culturali e gastronomici. Recentemente un'altra delle guide di Repubblica uscite ha messo in risalto i porti siciliani, compreso quello di Sciacca. Come dire, parlare dei porti di Sicilia è parlare della Sicilia, tutto è circondato dal mare, ma Sciacca è una delle capitanerie molto più importanti, non posso altro anche per la marineria dedicata alla pesca, un pescato di grande qualità e di trasformazione anche del pesce di qualità, quindi come dire, svettava, se Sciacca sia appunto tutte le altre città che stanno sulla costa meridionale della Sicilia, insomma faceva una gran bella figura in quella guida. L'Italia ha dei tesori straordinari, c'è bisogno però evidentemente di valorizzarli anche attraverso le iniziative editoriali. L'editoria deve accompagnare la bellezza, non deve soltanto essere a servizio degli accadimenti poco simpatici, poco drammatici che purtroppo, come dire, circondano la nostra vita. Con i volumi che io dirigo in tutta Italia, ne facciamo ogni anno 50-55 di volumi dedicati alle bellezze italiane, noi come Mission abbiamo così scelto di raccontare il mare, le campagne, i parchi, i biciclabili, i paesi, le comunità, le città, i quartieri delle città, ma anche tutto quello che ha a che fare con la cultura e con la bellezza di raccontare in chiave positiva. Ed anche oggi eccoci arrivati alla consueta rubrica Il Libro del Giorno. Quasi tutti sanno che Murakami è un avido ascoltatore di musica, un determinato collezionista di dischi, possiede oltre 10.000 vinili o che è un patito della corsa. In pochi però sono a conoscenza di un'altra sua speciale e curiosissima passione, le t-shirt. Sì, perché le magliette sono il capo d'abbigliamento che Murakami preferisce indossare in assoluto e nel corso degli anni ne ha accumulate così tante che oggi il grande scrittore giapponese può vantare una vera e propria collezione e tra le più invidiabili, dalla gioia di entrare in un negozio dell'usato pieno di dischi all'emozione di ogni concerto, dalla gratificazione che deriva dal traguardo di una maratona allo sconfinato amore per la letteratura. Murakami ci guida alla scoperta della sua passione per le t-shirt attraverso le immagini dei suoi pezzi da collezione e i racconti a essi legati. Di fatto ci invita, nel suo straordinario mondo quotidiano, a passare un po' di tempo con lui, proprio come si fa con i vecchi amici. Ti, le mie amate t-shirt, di Haruki Murakami, edito e in Audi. La pagina sportiva, occupiamoci di calcio, si è chiuso il mercato di riparazione invernale per i dilettanti. L'Unitas Sciacca ha lavorato soprattutto sui giovani e sui ritorni in maglia nero-verde. Sono stati tesserati Maniscalco, Nicosia, Messina, Spina, Mamone, Zummo, Mistretta e Billera, mentre hanno detto addio Pizzolato, Salvucci, Daniello, Taormina e Galluzzo. Il punto in questo servizio. La finestra invernale del mercato dilettanti per l'Unitas Sciacca si è chiusa con l'acquisizione di due giovani under che andranno a completare la rosa messa a disposizione del tecnico Totò Brucculeri. Si tratta del difensore Matteo Mamone e del portiere Niccolas Billera. I due calciatori fanno già parte dell'organico nero-verde. Mamone, classe 2003, è un difensore proveniente dal Don Carlo Misilmeri. Vanta trascorsi nei settori giovanili di Palermo e Trapani e ha sicuramente le caratteristiche tecniche per affermarsi. Si registra poi il ritorno di Niccolas Billera, portiere diciottenne, che negli anni scorsi si era già messo in luce con la squadra Juniors nero-verde. Un mercato piuttosto pilotecnico per la società del presidente Gioacchino Settecasi. Tanti profili acquisiti e numerosi ritorni, a cominciare dal portiere titolare Alessio Zummo, che ha preso il posto del trapanese Pizzolato. Zummo era stato protagonista nel recente passato di due stagioni in maglia nero-verde. Ottimi anche i ritorni di Nunzio Nicosia a centrocampo e di Domenico Messina come esterno d'attacco. Due pedine che sicuramente si candidano per essere i nuovi titolari nella formazione iniziale di Brucculeri. In difesa si è registrato il ritorno di Alessio Maniscalco, già titolare nelle ultime due partite dello Sciacca, prima della pausa natalizia, ossia quella con il Castellammare e poi quella interna con la Nissa, terminate entrambe in parità per 1-1. In attacco, invece, si è puntato tutto sulla verbo giovanile di Lorenzo Spina e soprattutto su Domenico Mistretta, attaccante 25enne, che è il vero e proprio colpo di mercato più importante in casa nero-verde. Proveniente dalla Mazzarese, squadra con la quale in questa prima parte di stagione ha messo a segno quattro reti, conta diversi campionati in Serie D, con Palmese, Marina di Ragusa e Gladiator. Mistretta di Menfi ha già svolto il primo collenamento agli ordini di mister Toto Brucculeri e sarà pronta per la ripresa del campionato di eccellenza. Tesserato pure anche l'ander Dominic Parisi, giovane attaccante proveniente dall'Icata. Hanno salutato la compagine nero-verde, invece, Pizzolato, Daniello, Salvucci, Taormina e Galluzzo. Dopo le feste riprenderà il torneo di eccellenza con il Girono e il Ritorno. L'Unità 6H è chiamata ad effettuare lo sprint decisivo per agguantare quella zona play-off che è l'obiettivo dichiarato dalla società ad inizio di stagione. E questa era l'ultima notizia. Noi ci fermiamo qui, ma naturalmente vi facciamo, da parte di tutta la redazione e lo staff di Telemonte Cronio, i migliori auguri di un sereno Natale. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS